Com'è difficile capire il presente. Vedete il mio bel volto, vedete che bel volto che ho? Sono qua io, sulla copertina di questo settimanale. Vedete? E questo è l'importo del venerdì, del cuore della sera, vedete quanto so bella? E sotto mi hanno scritto com'è difficile capire il presente, ma il fatto è che tutto ciò non sarebbe stato scritto, il mio volto non sarebbe su questa copertina e nemmeno ci sarebbe questa frase, se i giornalisti del cuore della sera conoscessero le opere di Cerafino Massoni. Vedete? Un e-book interattivo multilodiale, dal matriarcato al patriarcato, di cui presto ci sarà la traduzione in lingua inglese on the world, on the world, cari amici, on the world. E Cerafino Massoni lo conosce il presente, conosce il presente, il passato e anche il futuro. Per cui io ora sono qua, su questa copertina, però da questa copertina, glielo dico ai giornalisti di RCS e Mediagroup, Rizzoli e Mediagroup, ai giornalisti del cuore della sera, che vadano a leggersi le opere di Cerafino Massoni e soprattutto seguono le trasmissioni di Cerafino Massoni su quella pubblica web tv on demand che Cerafino Massoni gestisce da circa dieci anni, circa dieci anni, capito? Capito? Altro che difficile capire il presente, esiste Cerafino Massoni che capisce il passato, il presente e il futuro.